Musica Oggi è stato interessante l'incontro sul papillomavirus in Aulamagna Non me l'aspettavo proprio, pensavo di annoiarlo E' vero, non lo sapevo che anche i maschi potessero fare la vaccinazione Musica Peccato che oggi eravate impegnati con il compito in classe, è stato bello Ma lo sapete che è uscita la vaccinazione per i maschi del papillomavirus? Non lo sapevo Ah ma non era solo per le donne, mia sorella l'ha fatto l'anno scorso Serve anche agli uomini per non prendere l'infezione, la dovete fare, è importante Ci sono ragazzi che hanno preso il papillomavirus e rischiano un tumore Grazie dell'informazione, prossimamente andrò a farlo Ma dove possiamo andare per sapere qualche cosa di più e per farla? La dottoressa ha detto che si può andare all'ufficio prevenzione dell'ASL in Viatico Peluso Dietro casa tua Luca, domani ci affacciamo Bene ho capito dov'è, grazie mille Noi abbiamo scelto la prevenzione E voi